Ciao a tutti, oggi prepareremo il dessert tipo coppa malù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più due ore in frigo. Gli ingredienti sono latte, zucchero, amido di mais, burro, cacao amaro, panna montata, granella di nocciola e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cacao, l'amido, lo zucchero, il burro e il latte. E lo facciamo cuocere per 12 minuti, 80 gradi, velocità 4. La crema è pronta, versiamola in dei bicchieri. Posizioniamola adesso in frigo per almeno due ore prima di decorare. Dessert tipo coppa malù. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.